www.feyyaz.com Ci hanno detto che portiamo a casa il best bow della flada stasera. Siamo noi, Leeroyan, Duncan, sul warm up, la Toya Jackson, poi chi è che c'è? C'è Omar Pedrini, Letty Moria, c'è Pupo, come best woman. Saremo abbastanza seri per ascoltarle. Un mare di capa, una capa tanta, una capa tosta. La sera Leone, la pasticca del Leone. Io dico Giorgia è una ragazza simpatica, vive vicino a Bologna. Tu fai il winner is, il winner is. Non ce la faccio, siete in meglio. Senza flash. Forza, forza e coraggio, dai. Questi sono i momenti che tu non devi svelare. Dai che se no non iniziamo più a sé. Fai questo grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.